Notizie delle ultime ore. Uno degli annunci più attesi dalla nostra community e dai fan Pokémon. Torna l'anima e esplorazioni Pokémon con le nuove attesissime puntate. Precedentemente sospeso a causa dell'emergenza coronavirus, l'account Twitter ufficiale giapponese ha annunciato il ritorno delle avventure di Ash e Goh in esplorazioni Pokémon, Pocket Monster in giapponese e Pokémon Journeys negli Stati Uniti. I nuovi episodi inizieranno la prossima settimana, 7 giugno 2020, con la messa in onda della puntata numero 23. Tanti sono gli eventi in arrivo, come il ritorno di Ornella dalla serie Pokémon XY, l'arrivo dell'attesissima sfida tra Dundale e Laburno e l'introduzione di nuovi Pokémon e personaggi come Sobol e Sonia. Come sempre seguiremo le nuove puntate dell'anima e esplorazioni Pokémon ogni domenica su Twitch, quindi non perdetevele. Fatevi vedere contentissimi qua sotto nei commenti e iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina e seguiteci sui social. Noi ci vediamo alla prossima PN News, ciao allenatori! Noi ci vediamo alla prossima PN News.